Si chiama Gianna Lyons, è una donna di 66 anni di età, americana di Nevada, la quale ha sposato un 36 anni, di nome Felix Maduku. Le ripeto, ha 66 anni, lui ne ha solo 36. Si sono conosciuti entrambi su Facebook 14 giorni dopo averlo incontrato dal vivo. Gianna si è aggiunta infatti su Facebook, o meglio l'ha aggiunta il buon Felix, che vive in Nigeria. C'è stato subito lo schiocco della scintilla magica, il colpo di fulmine, con un primo sms, nonostante una differenza di età abbastanza elevata, contanto di distanza chilometrica. Pensate che i due paesi distano circa 12.000 chilometri e fischi. C'è stato questo volo in Nigeria, la donna ha conosciuto lui, lui ha conosciuto la donna, è stato amore a prima vista. Si sono subito innamorati e c'è stato il cosiddetto colpo di fulmine. La coppia dice apertamente di essere felice e soddisfatta di essere insieme. E tra l'altro la stessa donna ha detto, il mio compagno mi ha conquistata con un messaggio. È stato un messaggio a far sì che ci sia stato lo schiocco, lo scoppio della scintilla magica. Il cosiddetto colpo di fulmine, va bene? Quindi il colpo di fulmine forse esiste realmente parlando. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. La coppia si dichiara felice e ragionante giuliva, soprattutto perché sembra che è di felicità e entrambi godano. Iscrivetevi, commentate. Ciao, la narratore italiana. E una buona giornata a voi.